Il 2020 è stato un anno impegnativo. Il Covid ha messo a dura prova la vita di ognuno di noi e ha portato il consenso di bonifica a doversi riorganizzare, utilizzando anche lo smart working. Questo però non ha influito sulla operatività dell'ente, che anzi è riuscito a portare a termine tutto il piano dell'attività entro la fine dell'anno, come ci eravamo prefissati prima dell'arrivo di questo virus. È stato un anno importante anche per le relazioni, che si sono anche incrementate, anche rafforzate, in primis con i comuni, con gli enti locali, che sono i nostri partner. E lo abbiamo fatto soprattutto nella fase finale, negli ultimi mesi dell'anno, dove abbiamo insieme lavorato per la stesura del piano delle attività 2021. Questo rapporto con i comuni è fondamentale per riportare sul piano le reali esigenze di manutenzione ordinaria dei territori. Da poco si è insediata la giunta regionale. Abbiamo già incontrato l'assessore Monni, con il quale abbiamo condiviso obiettivi e anche abbiamo dato indicazioni sul miglioramento della legge 79 che ha appunto istituito i consorsi di bonifica in Toscana. Nel 2021 dovremo assolutamente incontrare anche l'assessore Saccardi, l'assessore all'agricoltura, perché due sono i compiti istituzionali dell'ente, da una parte la difesa idrogeologica e dall'altra l'irrigazione. In questo momento l'ente sta lavorando a progetti nuovi, progetti importanti per recepire fondi europei del next generation, da una parte per lo sviluppo di nuovi distretti riqui e la gestione della risorsa idrica e dall'altra per nuove opere e manutenzioni straordinarie, necessarie per la messa in sicurezza dei nostri territori. Quello a cui abbiamo teso nella nostra attività come amministrazione consortile è stata quella di perseguire la massima efficienza possibile e di raggiungere gli obiettivi che ce li avevamo prefissati. Obiettivi che con orgoglio, mi sento di dire oggi, abbiamo raggiunto. Questo ci ha permesso di realizzare circa 10 milioni di interventi di manutenzione ordinaria a cui si sono aggiunti interventi importanti. Cito solo uno, quello nel comune di San Giovanni Valdanno, un intervento da oltre un milione d'euro che ha ristabilito tutto il sistema spondale dell'anno nel trato che attraversa i paesi tra i ponti, i pazzi, i apertini. Il 2021 abbiamo ancora progetti più ambiziosi, sia da quanto riguarda la difesa idrogeologica. Abbiamo un piano di attività approvato dalla nostra Assemblea circa 20 giorni fa che prevede un ulteriore sviluppo degli interventi da realizzare. Passeremo da 10 milioni circa agli 11 milioni nel 2021. e la progettazione di questi distretti irrigui, di cui il più importante sarà questo distretto 23 di Foiano. Stiamo iniziando a pensare alla realizzazione di un ulteriore distretto in Val di Chiana, nella zona di Montepulciano.